Giocare, segnare, vincere, ogni considerazione e conseguenza diretta di queste tre azioni. Ma il talento e il valore, la giocata più bella o la parata più difficile, le tieni per partite come questa. Quando tutti riconoscono il tuo valore, ti qualificano come il migliore. Questo è forse quello che conta davvero. La storia non è importante, dicono, ma è la storia che fa di Pizzabun, Trastevere, Checco dello Scapicollo, il superclassico della Lega Calcio 8. Buonasera e benvenuti per la quindicesima giornata della Serie A alla Stella Azzurra. Pizzabun, Trastevere, Checco dello Scapicollo, una partita che non necessiterebbe di alcuna introduzione. Match storico, sempre per il vertice, sempre match importante negli anni scorsi della Lega in campo. Manca il pallone d'oro della scorsa stagione. Parliamo di Maramau, del Checco dello Scapicollo, campione d'Italia, ma c'è il numero 10 Daniele Rossi che due anni fa vinse. Pallone d'oro e Scarpadoro, grandi individualità, grandi collettivi, anche se il Checco dello Scapicollo tra la scorsa stagione e questa sembra essere la bestia nera del Pizzabun. La distanza tra le due compagini in questa stagione sembra essersi ridotta, sembra essere più quadrato il Pizzabun. Anche se il Checco dello Scapicollo dovesse vincere oggi, tornerebbe a guardare tutti dall'alto, dove adesso risiede la Venere in bichini in testa alla classifica. Della Lega Calcio 8 con 32 punti, due di vantaggio, con una partita in più. Sul Checco dello Scapicollo, terzo in classifica, non dovesse vincere oggi, perderebbe quindi la testa della gradatoria, 10 vittorie, nessun pareggio e 4 sconfitte per i pluricampioni che vengono da tre successi consecutivi nella Serie A della Lega Calcio 8. Sesto invece il Pizzabun Trastevere a 25 punti con 8 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Il calcio d'inizio sta per essere dato. Dal Checco dello Scapicollo vediamo Cola. Sul punto di battuta andiamo quindi a ripilogare le formazioni in porta. Andiamo con il Checco dello Scapicollo, scusate, con il numero 8 Cafiero, numero 2 Buzzi, numero 6 Capolei, numero 10 Cichella, giocatore storico del Checco dello Scapicollo. Oggi in campo, numero 4 Capitan Cuo... scusate, numero 4 Nicola Cuozzo, numero 3 Gianluca De Santis. Posta intanto l'azione il Checco dello Scapicollo in zona difensiva, si alza la pressione. Andremo a proseguire la lettura delle formazioni quando la palla non sarà in zona pericolosa. Il Checco la controlla qui con Cola bassa e tornato. Al mio fianco in sede di commento tecnico Giovanni Fabri. Giovanni, il superclassico qui, ne vedremo delle belle. Sì, l'hai detto tu, l'hai detto in fase di presentazione. Sarà una grandissima partita. Queste sono le due squadre che negli ultimi anni hanno garantito il maggior spettacolo, soprattutto una grande continuità di rendimento. Il Checco non lo scopriamo oggi, il pizza boom neanche. Grande continuità di rendimento, dicevamo, e anche grandi partite. Tra queste due formazioni che hanno sempre garantito gol e spettacolo nei loro incroci, negli ultimi quattro ha vinto il Checco dello Scapicollo, che nella scorsa stagione fu capace di battere per due volte il regular season il pizza boom, che attenzione adesso prova a imbastire l'azione. La sfera però sfila in rimessa dal fondo. Eravamo rimasti alla formazione del Checco dello Scapicollo, con il numero 14, Galli. Il 7, Luca Italiano. 9, Erwin Cola. Numero 15, Krasimir Bogdanov. Numero 12, Luciano Molon. In porta, numero 11, Valerio Nardecchia. con tutti i suoi pezzi di diamante oggi. Il Checco dello Scapicollo, tranne, si fa per dire, Marramao, gli altri ci sono praticamente tutti, risponde. Il pizza boom tra Stevere, che attenzione, qui deve difendere su cola, lo fa bene, riparte. Con Daniele Rossi servito, tocca il suo primo pallone, lo protegge subito dall'intervento di un paio d'avversari e lo gioca indietro. Impostazione non tranquilla da parte del pizza boom. Giannini sale in pressione, inutile però perché c'è Cichella, impossibile. Togliere il pallone a Cichella, baricentro basso, sbaglia il passaggio. L'intervento di De Santis. Palla controllata adesso dal numero 8, Caffiero. La gioca ancora indietro a De Santis. Procederemo alla lettura della formazione del pizza boom tra Stevere appena il pallone uscirà fuori. Ora è controllato da un bomber d'eccezione. Erwin cola, tanti gol decisivi, tanti gol nelle finali, che hanno portato tanti trofei al Checco dello Scapicollo, Giovanni. Sì, sì, lui è famoso, lo conosciamo per questo. Le sue zampate ormai lo hanno reso proprio un simbolo del Lega Calciotto. Intanto aveva provato ad andare al tiro il numero 8, Stornelli, altro giocatore simbolo del pizza boom tra Stevere insieme a Daniele Rossi. Cola prova a rispondere dall'altro lato. Il sinistro di Cola che sfila a incrociare. Caterini sembrava controllare. La palla è uscita di un nulla. Il primo squillo dei campioni. Con Erwin cola, l'avevamo detto, Giovanni, un attaccante straordinario da tutte le posizioni. Sì, si è fatto vedere subito. Qui sulla sinistra ha puntato l'uomo, si è portata la palla sul sinistro, ha tentato questo diagonale che è uscito di poco, al lato del portiere avversario. Deve trovare forse un po' di calma in avvio il pizza boom tra Stevere. Già un paio di palloni buttati dalla zona difensiva per una squadra famosissima all'interno della Lega da anni. Per la tranquillità, la spensieratezza del proprio possesso di palla. C'è da dire quasi sempre affidato a piedi ottimi. Vediamo Rossi, vediamo Giannini, vediamo Stornelli. Anche adesso il Checco che attacca con la palla che viene affidata a Cicchella. Primo in impostazione per i campioni d'Italia. La sfera a sinistra. C'è l'assist dentro, tentato. Poi Stornelli viene a prendersi la sfera dietro. Giannini chiama palla. Stornelli la lascia invece lì per il capitano Paolo Latini. Col numero 5 Giannini dalla può anche tirare. Allarga invece a beneficio del numero 4 Alessio Ciocchari che rientra sul sinistro prima di fermarsi. Controlla con la suola. Poi Ciocchari con eleganza per Giannini. Con pazienza adesso il pizza bunco. E la pazienza che chiedeva Messali nel pre-match appunto ai suoi giocatori per evitare di perdere subito la bussola contro una squadra che sa farti male come il Checco. Stornelli qua ha tentato il controllo. Facile però per Molon parare e far ripartire i suoi. Attenzione, attenzione però scusa Giovanni. La palla recuperata dal pizza boom. Costretto Cichella al primo intervento decisivo in zona difensiva. Qui il passaggio a raso terra rischiava di diventare davvero pericoloso all'interno dell'area di rigore. Ecco Giannini che si porta sul punto di battuta. A rientrare l'angolo respinto di testa. Crediamo da Erwin Cola che rimane nei pressi. Poi calcio di punizione per il Checco dello scapicollo. La formazione del pizza boom non riusciamo a darvela. Non c'è un attimo di pausa. Caterini in porta. Numero 4 Ciocchari. 9 di vasta. 11 Giannini. 5 Paolo Latini il capitano. 2 Alessio Passone. 10 Daniele Rossi. 6 Andrea Sacchi. 3 Valerio Sacchi e suo fratello. Il numero 8 Enrico. Attenzione al destro e la rete all'incrocio dei pali. Gol straordinario. Stavamo leggendo le formazioni. Dal nulla. Va in vantaggio il Checco dello scapicollo. Ha segnato il numero 8 Caffiero che botta dalla distanza. Una botta incredibile. Dritto per dritto. Ha preso il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. È andato. Si è diretto verso l'area di rigore avversaria. Ha scaricato questa gran bordata. Nulla da fare per il portiere avversario. Pallone all'incrocio dei pali. Leggevamo le formazioni. Ma ci saremmo aspettati che da quella distanza Caffiero incocciasse il pallone all'incrocio dei pali. Un gol straordinario. Del Checco dello scapicollo che è già in vantaggio quando siamo giunti al quarto minuto. Nel primo tempo. Rossi e Giannini rispondono subito. Molon. Molon chiamato da Giannini. Il suo gran tiro di collo che è partita subito dai primi istanti. Azione da una parte e dall'altra. Sbaglia il pizza boom. In difesa allora il Checco. Prova a dare continuità. In vantaggio per 1-0 al suo attacco sulla destra. Sfera che viene servita al numero 7 che la copre. C'è Stornelli che rientra in possesso di palla. Giannini porta per mano il pallone. E la sua squadra a salire nella metà campo avversaria servendo a destra il numero 6 di Berri. Poi Giannini gli chiamano l'uomo. Gioca all'indietro per Caterini. Con i piedi. Non benissimo. Riesce lo stesso a trovare Latini. Dalla può tirare Latini. Colpetto De Santis. Il giocatore del pizza boom. Chiado non fa lo di mano che però non ci sembrava nemmeno. Non sembrava nemmeno esserci a noi. Diciamo da questa posizione. Sembrava aver toccato il pallone col petto De Santis. Fasi convulse da subito. Velocissime del match. Stavamo per perderci. Il gol del vantaggio del Checco. Stavamo leggendo la formazione del pizza boom. Eravamo arrivati a Stornelli. Mancava il numero 7. Andrea Tiberi. C'è Giannini che controlla nel metà campo avversario e protegge la sfera. Vuole far salire i suoi. Cerca l'assistenza. Qui a destra per il numero 6. Sacchi. Prova a scambiare. Un suo compagno di squadra si invola però il Checco in contropiede. Attenzione alla palla dentro. Iscivolata Caterini. Si supera. Sul numero 15 del Checco dello scapicollo. Krasimir Bogdanov. Uno dei migliori giocatori della scorsa Lega. Qui in scivolata. Stava per far male. Al pizza boom. Trastevere. Davvero molto sbilanciato in avanti. In questo avvio vuole il pareggio immediato. L'avevamo detto. Sarebbe stata una partita molto offensiva da parte delle due squadre. Non si sono mai risparmiati. Cichella. Vede la salita sulla destra di un compagno. Ma sbaglia. Pizza boom. Che ha creato qualche chance nell'area di rigore. Ma che si scopre pericolosamente Giovanni. Si sembrano essere partiti meglio i giallorossi. In realtà il Checco sembrava un po' contratto. Forse anche mentalmente non sicuro dopo la sconfitta. Nell'ultimo turno. A sorpresa contro il BMD Gianicolo. Poi però abbiamo visto. Come sono usciti fuori i ragazzi magli arancione. Subito 1-0. Adesso altra grande occasione. La classe di Caffiero. La potenza del suo destro per adesso. Sta facendo la differenza. 1-0 per il Checco dello Scapicollo. Quando siamo giunti al sesto minuto. Nel corso del primo tempo. Dicevi della sconfitta col BMD Gianicolo. Sconfitta col BMD che sta diventando una costante in questa stagione per il Checco. Che ha perso anche all'andata e anche in finale di Forward Cup lo scorso anno. Contro gli stessi uomini del BMD Gianicolo. Qui Caterini. E vede andare a rinvio col sinistro. C'è Rossi. Splendido di sinistro per Stornelli. Attenzione a Stornelli. Col destro. Fuori di un nulla. Stornelli che assist al volo di Rossi. C'è stata una deviazione. Sarà calcio d'angolo pericolosissimo il Pizza Boom Giovanni. Ma che passaggio. Che passaggio di Rossi. Strepitoso. Senza guardare. Ha trovato il compagno davanti alla porta e lo ha servito. Ancora Rossi col cross dentro e non riesce a deviare. In acrobazia il suo compagno di squadra. Poi il Checco sotto pressione. Sbaglia e butta via il pallone. Il Pizza Boom è pericoloso. Già due volte. Vicino al pareggio. Prima con Giannini. Poi con Stornelli. Qua Rossi. La palla gli rimbalza lontana. Allora Molon può recuperarla per i suoi colori e allargarla. Sulla destra. Dove c'è il lungo linea. Krasimir Bogdanova ha una gran palla sulla sovrapposizione. Fino in fondo. Calcio di rigore per il Checco dello Scapicollo. C'è stato il tocco di Latini sulla linea di fondo. L'arbitro ha visto il tocco. Ha visto la spinta. Secondo Latini nemmeno troppo evidente. È andato a terra Caffiero. L'uomo che ha portato in vantaggio. Il Checco dello Scapicollo. Quindi calcio di rigore. E Cichella sul punto di battuta. Con la maglia numero 10. Cercherà di portare al 2-0 i suoi. Ingenuità da parte della difesa dei giallorossi. Scapicollo è riuscito ad involarsi. A entrare in aria di rigore. Poi è stato messo giù. Calcio di rigore sacrosanto. È stato messo giù quando la palla era ormai sfilata sul fondo. C'è Cichella contro Caterini. Parte Cichella che la piazza. Ma Caterini si supera con la mano destra. Incrocia come il tiro di Cichella. E va a prendere un rigore incredibile. Tiene subito in vita il pizza boom. Trastevere. Parato il rigore da Caterini. Fallo laterale per il Checco con cola. La palla fuori per Caffiero. Che la fa spiovere Caterini. La blocca in due tempi. Pericolosissimo ancora Caffiero dalla distanza. Caterini. Subito decisivo per i suoi. Ma che miracolo Caterini sul calcio di rigore. Ha calciato. È sempre difficile intuire i tiri dagli 11 metri. Lo ha fatto benissimo. Con la mano ha messo in calcio d'angolo il numero uno del pizza boom. A dire la verità Cichella aveva anche battuto bene. Angolando con potenza Caterini. Ci è andato prima. Attenzione al tacco di Rossi. Per Giannini che copre la sfera. Si gira a Giannini. Messo giù. Calcio di punizione. Occhio perché da là sia Rossi che Giannini possono andare. Rossi prova a andare col tiro. Respinto però da De Santi. Schiede qualcosa Rossi all'arbitro che non si avviede però delle proteste del numero 10. La sfera protetta poi dal Checco che rinvia senza guardare quando il pizza bunzale fa paura. Anche i campioni in Italia che devono difendersi ma sono andati davvero vicini al raddoppio con rigore di Cichella. Che grande partita. Di ritmi veramente elevati. Diciamo che stiamo vedendo probabilmente la differenza tra le due squadre di prima. La Roma e la Lazio. E queste due. Qui probabilmente c'è un'altra qualità in campo. Grandissima la velocità di gioco. Incredibili azioni. Anche i portieri però si stanno rendendo protagonisti di questa sfida. Si stanno distinguendo i portieri come si sta distinguendo il fatto che nel derby forse era la tensione a dominare. Qui è l'assoluta qualità degli interpreti. Come adesso non riusciamo a intravedere bene che sia c'è un fallo. Però infatti commesso dal numero 3 del pizza bun Valerio Sacchi che si era portato bene avanti la sfera all'altezza del lato corto dell'area. C'è Cichella pressato con grande tranquillità per Erwin Cola. Indietro per un suo compagno ha ancora cercato Cichella. Play basso che sbaglia davvero poco. Gli abbiamo visto sbagliare pochissimi rigori da quando milita nella serie della Lega Calciotto. Ci è voluto il miglior Caterini per parargliela. Cichella aveva incrociato di potenza. Poteva essere il 2-0. Qui lancio lungo di Cichella. Caterini può controllare la sfera. Che sfila sul fondo. Siamo giunti al decimo minuto. Sempre Checco dello Scapicollo in vantaggio per 1-0. Parato un rigore però due minuti fa circa. Due minuti e mezzo fa da Caterini a Cichella. Lancio lungo per Stornelli. Che impatta il pallone di testa. Non gli dà però potenza. Si alza un campanile facile per Molon. Prova il colpo di tacco e fallo laterale per il pizza boom. Non si avvede la deviazione. L'arbitro allora Giannini per Rossi che scodella senza guardare. C'è De Santis in qualche modo su Stornelli. Poi si disturbano i due. Allora Giannini altro gran controllo. Perde palla però. Allora attenzione a Bogdano. Va a Cola che gli si sovrappone. Lo serve. Cola. Il sinistro di Cola ancora Caterini. Si distende sul tiro a incrociare di Cola. Un altro miracolo di Caterini. Un'altra grande occasione per il Checco per arrivare al 2-0. Il calcio d'angolo già battuto. Basso messo fuori da Sacchi. Che occasione Giovanni. Un'occasione incredibile. Ancora una volta Caterini protagonista assoluto. Cola nel girarsi dopo il tiro. Lo diceva ma che cosa devo fare per mettere a segno una rete? C'è la sfera ancora controllata dal Checco. E quando attacca fa malissimo. Palla dietro per Caffiero. Il cucchiaio dentro. Stavolta fa bene Sacchi a non commettere fallo sulla linea di fondo. C'è Caterini quindi che può andare a rinvio sul petto di Daniele Rossi. Il solito stop elegante. Palla Giannini. Pressato da dietro. Riesce a proteggerla Giannini. Che la porta sempre. Doppio passo di Giannini. Il sinistro deviato col petto. Poi c'è da fuori il destro. Tentato dal numero 4 Alessio Cioccari. Sbagliata però. La deviazione. Il tentativo di potenza verso la porta di Molon. Il Checco che può ripartire. Non era facile in questa occasione trovare lo specchio della porta. Attenzione a Giannini Molon. Scusami Giovanni. A quale conclusioni si sosseguono da un momento all'altro. I giocatori tirano da tutte le posizioni. Per fermare il ritmo. Serviva un time out. Chiamato dalla panchina del pizza boom. Sì stanno veramente cercando conclusioni da ogni parte del campo. Abbiamo detto. Lo dicevamo in telecronaca. Durante la partita precedente. Le dimensioni del campo. Del centrale. Di calciotto. Della stella azzurra. Favoriscono appunto le conclusioni. Perché appunto le dimensioni sono ridotte. E vediamo comunque che ci stanno provando veramente da tutte le posizioni. Sempre pericolosi. Ma sempre devo dire molto attenti i due estremi difensori. Il super classico della quindicesima giornata. Della serie A della Lega Calciotto. Su news.faner.it. In diretta live streaming. Troverete gli highlights di questa partita. Del match che l'ha preceduto. Il derby dove la Roma ha vinto per 3 a 1 contro la Lazio Calciotto. Sul TG Faner News. In uscita dal mercoledì alla domenica. Alle ore 19. Sul sito news.faner.it. O sulle pagine Facebook. Della Lega Calciotto. E di Futsal Faner. Anche. È importante controllare il sito. Futsal Faner.it. Per ragguagliarsi. Su Capitolina Lido di Ostria Futsal. Match di serie C1. Che si svolgerà. Sempre qui alla Stella Azzurra. Sta per riprendere il gioco. Una partita che dal primo minuto. Non ha concesso. Un attimo di pausa. È stato. Più bravo per adesso. Il checco dello scapicollo. Che è in vantaggio per 1 a 0. Poteva essere più largo il punteggio. Non fosse per un Caterini in formato mostro. Possiamo dire. Tra i suoi pali. Ha già parato un rigore. E levato un gol fatto a Cola. Sbaglia qua. Il Pizzabun Trastevere. Sulla zona sinistra del campo. Allora c'è Cola. Che viene a prendersi la palla. Sul lato sinistro. Fa salire un compagno. La serve con troppa sufficienza. Allora la sfera. E' recuperata dal numero 9 del Pizzabun. Trattasi di Divasta. Che recupera. Trova la rimessa laterale. E poi va al lancio. Lungo per Stornelli. Stornelli dal secondo palo. Ha provato a far venire giù il circolo sportivo. Non ha incrociato la grande. Ha tentato. Il gol alla Van Basten. Da premiare solo per l'idea. Stornelli. Non per la conclusione. Che gesto tecnico. Era impossibile trovare. Lo specchio della porta. Infatti non lo ha trovato. Ma il gesto tecnico. Da sottolineare e da rimarcare. Anche Molon dal canto suo. Ha effettuato grandi parate. Qui c'è Bogdanov. Col destro Caterini. Con mani sicure. Con i pugni a deviare. Poi Giannini. C'è il contrasto di Caffiero. Che però è irregolare. Forse gamba tesa. Da parte del muscolare numero 8. Del checco dello scapicollo. Vediamo tornato a bordo campo. Tra gli altri. Spettatore interessato. Tra gli altri sì. Manolo Paraportiere della Venere in bichini. E Mirante. Attaccante del BMT Giannicola. Ad assistere al superclassico della Serie A della Lega. 1-0 checco. Ma il Pizza Bruno non ha nessuna intenzione di demordere. Qui De Santis. Lancia in verticale dalla propria difesa. Poi di petto. Presuntoso. Il controllo è il numero 7. Allora Giannini. Giannini se ne va in dribbling. Il destro di Giannini. Molon. Con due mani a respingere. Non ha nemmeno tentato la presa sul destro potente di Giannini. De Santis. Il lancio lungo su cola. C'è Divasta che impatta. Poi Bogdanov. Il tocco di Divasta in fallo laterale con cola che la rimette subito per Bogdanov. Palla troppo lunga. I ritmi sono altissimi. Potrebbe risentirne un po' la tattica. Però adesso le due squadre non ci stanno abbattando molto. Assolutamente no. I ritmi sempre elevatissimi. È difficile anche tenere conto di schemi e di tutto il lavoro svolto in settimana. Fino a quando i ritmi non si abbasseranno un pochino sarà difficile metterli in pratica. Si può lavorare quanto si vuole in settimana ma quando due squadre si conoscono... Attenzione a cola che prova col destro intanto a spiovere. Altra gran giocata di Erwin Cola. Stavolta all'esterno della rete. Che incontra la sfera che aveva tirato col sinistro. Cola con buona coordinazione. Anche è marcato. Dicevamo le squadre che si conoscono così bene non badano. Quasi mai alla tattica quando si incontrano si affrontano. Quindi sempre a viso aperto. Cercando con le proprie armi, con la classe e la qualità di sopraffarsi l'un l'altro. Qui Daniele Rossi preso in mezzo. Non riesce a dribblare. C'è Giannini. Cola però vince il secondo rimpallo. Allora Cichella. Attenzione. Cichella può portare la sfera a tirare dalla media distanza. Il tiro a incrociare che Sibila. Alla destra di Caterini. Stavolta poco avrebbe potuto sul fendente del numero 10. Altra occasione per il Checco. Si rimane 1-0. Ancora altra grande occasione. Che arriva ancora una volta da un tiro dalla distanza. È questa finora la chiave con cui le due squadre possono decidere il match. Possono cambiare il corso di questa partita. Questa volta è stato il numero 10 del Checco dello Scapicolo a provare la sua prima conclusione verso lo specchio della porta. Che non è stata fortunata. C'è Sornelli che ha recuperato una palla velenosa lasciata lì dal Checco. Allora l'azione è pilotata sulla sinistra. Parte un cross. Cola che si prodica come al solito anche in fase difensiva. Va a vincere un contrasto. Serve Luca Italiano. Occhio perché Italiano è velocissimo. Cerca invece Bogdanov che stoppa la palla. Subito attorniato da la marcatura. Che però salta Bogdanov. Bogdanov con la punta. C'è l'intervento in scivolata. Miracoloso da parte del numero 3 Sacchi. Valerio Sacchi ha impedito di raddoppiare al Checco che può andare a battere il calcio d'angolo con Italiano che gioca sia di destro che di sinistro. Il calcio d'angolo battuto bene col sinistro. Prolungato per un attimo di testa di vasta che poi controlla sulla pressione di Cichella. Suo palleggio. Poi la palla giocata a lungo linea per Stornelli. C'è De Santis che copre col fisico però l'uscita del pallone. Si resta quando siamo giunti al diciassettesimo minuto del primo tempo. 1-0 per il Checco dello Scapicollo. Finora il superclassico non sta assolutamente tradendo le tese Giovanni. Assolutamente no, lo stiamo dicendo. Lo vediamo. Non si abbassano i ritmi. Qui contro piede del Pizzabum. Contro piede del Pizzabum guidato da Sacchi che entra in area solo in molo. Stavolta lui con i piedi a recitare il ruolo del protagonista. Nega il pareggio al Pizzabum che continua però con la palla dentro. Rimane lì il fallo di mano. L'arbitro non lo vede. Forse dà il vantaggio. Poi un'occasione confusa del Pizzabum che non riesce a metterla dentro ma recupera ancora con divasta. Grandi proteste da parte dei giallorossi. Divasta il destro. Alto sulla traversa. Daniele Rossi si lamenta. Era tutto solo. Forse qui c'era il tocco con la mano ma l'arbitro ha preferito far andare alla conclusione del Pizzabum che non ha fatto gol Giovanni. Forse sì, l'abbiamo visto. Il direttore di gara probabilmente ha pensato di dare il vantaggio. Un vantaggio che poi alla fine però non si è concretizzato. O meglio, non si è trasformato, non si è tramutato in rete. E allora ha potuto liberare la difesa del Checco dello Scapicollo. Checco dello Scapicollo che se l'è vista brutta in questa doppia azione che prova ad andare adesso al lancio lungo in verticale. C'è la deviazione. Un Mirante che da fuori il campo prova a ributtarla dentro. Vediamo tanti volti della Serie A che stiamo vivendo quest'anno. Stupenda. Livellata come non mai. Equilibrata. Qui vicino a noi. Tommaso D'Aversa dell'Eurobetto. Para portiere della Venere in bichini. E' tornato anche Simone Mirante che aveva assistito anche al derby. Rossi intanto. Per Stornelli. Velocissimo sulla sinistra. Stornelli che riesce a vincere il rimpallo. Crediamo sia sì. Stornelli che riesce a vincere il rimpallo. E porta a casa. Calcio d'angolo che va a battere. Come al solito il destro di Giannini. A rientrare Giannini sul secondo palo. Rossi la sponda e la rete del pareggio. Ha segnato il numero 7. Ha segnato Andrea Tiberi. 1-1 del Pizza Boom che stava premendo da qualche minuto. Con più costanza e rispetto all'inizio. Trova l'1-1 che è super classico Giovanni. E' cambiato il tema. Non più tiri da fuori. Questa volta il gol è venuto dall'interno dell'area di rigore. A due metri dalla porta del Checco dello Scapicollo. E' stato bravissimo Rossi. Con una sponda di testa. Una torre. A servire il numero 7 della squadra giallorossa. Che da lì proprio non poteva sbagliare. In tuffo è stato bravo. Tiberi a segnare il gol dell'1-1. Bravo anche l'italiano Rossi a non voler indirizzare il suo colpo di testa verso la porta. Ma a cercare la sponda per un compagno. Occhio italiano che prova a andarsene. Buona però ancora. La copertura di Sacchi che gli mette palla in scivolata. In fallo laterale. Sempre elettrizzante. Italiano con le sue accelerazioni sulla destra. Cambia direzione. Tira con tutti e due i piedi. C'è il fallo laterale. Adesso Caffiero. L'uomo che ha portato in vantaggio i campini d'Italia. Che l'ha da dentro a Bogdanov. La palla è ribattuta. Allora Sacchi addirittura in bel palleggio. Poi subisce fallo in pressione. Sì da Bogdanov. In italiano che si lamenta. Anzi era Caffiero scusate. Sarà calcio di punizione per il pizza boom. Forse la prima pausa. Dopo 20 minuti di gioco. Levando il time out. In una partita che non sta concedendo respiro. 1-1. Un punteggio giusto per quello che si è visto. Finora in campo. C'è da dire che il Checco ha avuto due grandissime occasioni per andare a raddoppio. Solo un grande Caterini ha potuto opporsi alle conclusioni dei campioni d'Italia che qui impostano. Con Caffiero. Di tacco con sicurezza per Cichella che porta palla. Cichella torna sui suoi passi e poi cambia. Versante qui sulla sinistra per il tiro del numero 6. Caterini vola e con i pugni riesce a respingere. Poi c'è il lancio lungo in verticale in avanti. Rossi la domestica. Non ci riesce per la gran pressione di Caffiero. Rossi rimane in pressione. Va a commettere fallo sul più potente avversario che è riuscito a proteggere meglio la sfera nell'occasione. Era andato prima al tiro respinto da Caterini. Gianluca Capolei. Un altro simbolo del Checco. Attenzione Italiano. Il cross è ribattuto. Fallo laterale. Italiano sta per batterlo. C'è Bogdanov che gli detta il passaggio vicino. Italiano attende però il piazzamento. Cerca Cichella. Uomo di sicurezza dietro. Penultimo uomo per il Checco non può rischiare sulla pressione di Giannini. Cichella sicuro dei suoi mezzi da De Santis. Di nuovo palla indietro poi Capolei che la controlla. Qui sul settore sinistro Cichella. Prova a abbassare il ritmo il Checco. Italiano scambi veloci. C'è Cora che la lascia a Capolei. Capolei attenzione forte in dribbling. Bravo anche di vasta a impedirglielo. E anche a impedire il calcio d'angolo. La palla rimane lì. Si gioca in un fazzoletto. Il rinvio lungo è deviato. Arriva Daniele Rossi a controllarla. Con la coscia. Poi prova il doppio palleggio. Messo giù Daniele Rossi. Dal doppio intervento di Cola e De Santis. Qui con un po' di esperienza. Rossi è riuscito a trovare il contatto. Sulla sua gamba sinistra. A cadere. C'è l'arbitro che va a spiegare le proprie ragioni. A Gianluca De Santis. Maglia numero tre. Molto prestante fisicamente. Anche molto forte nelle conclusioni. Ha detto bene con esperienza. Si è guadagnato questo calcio di punizione. Era chiuso in mezzo a tre uomini. Non poteva fare altro. Si è buttato per terra. È stato anche toccato. Dobbiamo dire la verità. L'arbitro ha concesso calcio di punizione. Riccardo Giannini si prepara alla battuta. Solo Erwin cola in barriera per il checco dello scapicollo. Giannini che da qua può andare. Sia con le tre dita sia d'interno. Vediamo come va Giannini. Con le tre dita. Doppia deviazione. Molon. Non si fa sorprendere. Respinge con i pugni. Giannini sempre pericoloso da fermo. Qui cola. Attenzione che si invola. Prova a darla sull'altra fascia dove Italiano insegue il pallone. Riesce a tenerlo in campo con uno sforzo. Italiano di fronte a sé. Un uomo. Crossa sul secondo palo. Dove addomestica Giannini. Senza problemi. Attende Bogdanovi. Impressione. Poi scarica di vasta che sbaglia. Attenzione che la lascia lì a Cichella. Checco che prolunga l'attacco con Italiano. Da fuori Italiano. Fuori di un nulla. Il destro di Italiano. Una saetta. Caterini l'ha vista partire. Sare disteso. Non sappiamo se ci sarebbe potuto arrivare Giovanni. Un brivido. Un brivido ha percorso tutte le schiene dei giocatori giallorossi. Probabilmente non ci sarebbe arrivato l'estremo difensore giallorosso. Il tiro era basso. Il tiro era potentissimo. Davvero difficile intuire nella traiettoria. Italiano ha sbagliato di pochissimo la mira del suo destro. Diciamo. Italiano che può calciare indistintamente con tutti e due i piedi. Ricorda un po' Hernanes Giovanni. Tira di destro e di sinistro. Prima abbiamo visto tirare un angolo di sinistro con la stessa qualità con cui calcia col destro. Sì, destra e sinistra, è vero. Dici bene. Non fa differenza per lui. Hai ricordato Hernanes? Può essere un paragone assolutamente importante. Forse è anche troppo importante. Che dici? Fare paragoni con la Serie A forse è un po' troppo. Forse è troppo importante fare paragoni con la Serie A. Ma la Serie A della Lega Calciotto a cui stiamo assistendo quest'anno ci sta fornendo un grandissimo spettacolo che trova la giusta sublimazione del superclassico Checco dello Scapicollo pizza boom. Manca un minuto, circa un minuto e mezzo più recupero al termine del primo tempo. Sempre uno a uno. C'è sul punto di battuta Cichella, vediamo chi andrà. Quattro uomini in barriera per Caterini che non si fida assolutamente delle qualità balistiche dei campioni in carica che hanno costruito molti dei loro successi. Sui calci da fermo da fuori hanno fatto scuola nella Lega Calciaotto. In particolare Cichella, anche se parte Caffiero, è una finta? Viene fischiata, adesso qui l'interruzione del gioco è partito Sacchi prima che il pallone fosse toccato la finta, ha tratto in inganno anche lui da parte, sì, di Caffiero. Ci mettono un po' a battere questo calcio di punizione quelli del Checco probabilmente volevano uno schema non l'hanno trovato, c'è Italiano che va a comporre la barriera insieme al pizza boom per disturbare Cichella. Corto, è uno schema, Caffiero! La palla rimpallata di testa dal pizza boom che è poi libera in qualche modo lanciando però direttamente dalle parti di Molon. Giovanni, non siamo riusciti a scorgere quanto ha dato l'arbitro di recupero ma c'è fallo laterale per il Checco, Italiano lo batte velocemente per Bogdanov forse spinto rimane in piedi. Il rinvio di Capitan Latini direttamente in fallo laterale forse il pizza boom andrebbe bene andare a riposo sull'1-1 per come si era messa la gara. Sì, probabilmente sì, dicevi che non ci siamo accorti dei minuti di recupero, ci siamo accorti di come il Checco prepara minuziosamente tutte le manovre e anche i calci da fermo quello schema è stato perfetto è mancata solo la conclusione. È mancata la conclusione di Caffiero mentre qui non è mancato il fischio dell'arbitro sull'intervento pericoloso è danno di Caterini Rossi la lascia a scorrere attenzione a Tiberi che ha provato a piazzarla sul secondo palo dando poca potenza poca precisione a questa sua conclusione un'altra giocata di Rossi dal nulla senza guardare un no-look un velo a liberare il compagno di squadra che non è riuscito stavolta a concludere come nella prima occasione finisce intanto qui Giovanni il primo tempo un gran primo tempo tra Pizzabun, Trastevere e Checco dello Scapicollo il superclassico termina 1-1 un punteggio che potevamo aspettarci al termine della prima frazione Giovanni partita equilibratissima Sì, diciamo che alla fine il punteggio è giusto le due squadre possiamo dire che si sono equivalse senza fare torto a nessuno probabilmente migliore la partenza del Pizzabun poi è uscito fuori nella seconda parte di gara il Checco dello Scapicollo che in ripartenza ha contrastato il possesso palla della squadra giallorossa e allora prima è arrivato il vantaggio abbiamo detto della squadra in maglia arancione poi dopo c'è stato invece il pareggio da dentro l'area facile facile per la squadra giallorossa tutto in equilibrio grandi prestazioni dei portieri nel primo tempo grande prestazione di Caterini che ha parato un rigore un rigore parato a Cichella che ricorda un po' quello che ha respinto un certo Manolo Paramellaro Manolo Paramellaro Manolo Paramellaro che è qui con noi Manuel come ti è sembrato questo primo tempo? vabbè è una partita bellissima a grosse intensità vabbè che dire non vediamo l'ora di vedere il secondo tempo tu sei portiere della Venere in Bichini che adesso con questo punteggio sarebbe ancora prima in testa la classifica con un punto di vantaggio sul Checco dello Scapicollo è un punteggio che andrebbe bene diciamo firmeresti tu da portiere della Venere in Bichini per un pareggio del Checco stasera? vabbè giustamente sì l'importante è guardare avanti e spero nel pareggio nella prossima gara Manuel affrontate proprio il Checco dello Scapicollo li stai un po' studiando puoi dirci un paio di giocatori quelli che ti mettono più paura per le qualità al tiro tu che giochi da estremo difensore? ho visto bene Capolei anche se gioca dietro però tutta la squadra è un'ottima squadra quindi bisogna stare attenti a tutti non la scopriamo non scopriamo certo oggi il Checco dello Scapicollo voi fra poche giornate affrontate anche il Pizzabun Trastevere come hai trovato lo stato di forma generale della squadra e di Daniele Rossi che è in ripresa quest'anno? vabbè certamente non c'è solo Daniele Rossi ma c'è anche Di Beri Sacchi Caterini quindi è un'ottima squadra quest'anno è una grandissima Lega quindi ogni squadra è un'ottima squadra quindi bisogna bisogna stare attenti e non guardiamo solo noi stessi la Venere in Bichini guarda a se stessa ma non lo para guarderà insieme a noi o qui sotto comunque il secondo tempo lo ringraziamo per la gentile collaborazione tra primo e secondo tempo gli auguriamo buona visione e buona serata nel frattempo le squadre vanno Mirante intanto ci ricorda che sul rigore di Cichella c'era un certo tifo da parte di Opara verso il suo collega Caterini che è riuscito a respingere con un grandissimo intervento siamo tra primo e secondo tempo sta per riprendere la seconda frazione impossibile chiederti un pronostico Giovanni la partita è troppo equilibrata direi difficilissimo si possono sottolineare però alcune grandi giocate che abbiamo visto nel corso di questo primo tempo Daniele Rossi soprattutto ha giocato solo di prima come sa fare lui ha messo un paio di volte i suoi compagni davanti alla porta Rossi proprio va a servire Stornelli per il primo pallone della ripresa giocato dal Pizzabun c'è la guardia spietata montata da Caffiero su Stornelli che va alla battuta del fallo laterale di vasta si coordina ha nelle corde ogni tanto rivasta tiri del genere non riesce però questa volta a coordinarsi al meglio la sfera finisce alta sulla traversa difesa da Molon c'è Cichella che porta la sfera Cichella viene pressato solo ora quando può cederla sulla sua destra per Nardecchia entrato in questo secondo tempo Nardecchia Giovanni nel primo tempo era in panchina può diventare un fattore la sua velocità beh sicuramente abbiamo visto che qualche spazio comunque se si prova a venire avanti c'è il Checco soprattutto è stato bravo a colpire in ripartenza un paio di volte e a creare pericoli Nardecchia sicuramente potrà fare male alla difesa del Pizzabun difesa del Pizzabun che va a affrontare questo nuovo attacco portato da Cichella sceglie la sua sinistra dove Capolei scucchiaia benissimo per Cichella alto sulla traversa il suo tentativo Caterini era fermo sul suo primo palo impreciso stavolta Cichella ma non era facile qui il Checco che addomestica bene questo nuovo tentativo del Pizzabun giocando indietro per Molon che rimette a De Santis Caffiero porta palla Caffiero per i suoi controlli al piazzamento dei compagni e sceglie di nuovo Cichella vero faro a centrocampo cola poi prova scusate Capolei l'imbeccata di tacco non gli riesce allora di vasta forse è troppo largo infatti è così il servizio per Tiberi che si rispera era una buona chance di andare con l'azione di rimessa per i giallorossi si resta uno a uno quando è iniziato solo da un minuto e mezzo il secondo tempo il Checco dello Scapicollo imposta l'azione dentro per Capolei il suo tentativo deviato in qualche modo poi Stornelli che gioca la palla di testa direttamente in fallo laterale i campioni in carica che comunque c'è da dire Giovanni quando amministrano il possesso di palla fanno vedere con tutti i propri interpreti interpreti grande qualità si tu sottolineavi il possesso palla del pizza boom nel primo tempo da sottolineare anche le grandissime qualità degli uomini in maglia arancione attenzione al destro è la rete la rete del nuovo vantaggio ha segnato il numero 11 Nardecchia 2 a 1 per il Checco dello Scapicollo l'imbeccata da destra Nardecchia ha lasciato troppo solo stavolta caro Giovanni Caterini non poteva assolutamente nulla un destro scagliato all'angolino a incrociare che gol di Nardecchia non poteva nulla e lo abbiamo chiamato Nardecchia è entrato all'inizio della ripresa proprio pochi istanti fa e subito si è reso pericolosissimo un destro imprendibile 2 a 1 il 2 a 1 del Checco dello Scapicollo che torna in vantaggio dopo essere andato sull'1 a 0 nel primo tempo essersi fatto raggiungere dal gol del pareggio di Tiberi aver sbagliato un rigore con Cichella adesso gli uomini in maglia arancione sono di nuovo in vantaggio col gol di Nardecchia gol cercato appena entrato è riuscito a trovarlo il numero 11 del Checco gol che cambia appunto il punteggio per i campioni d'Italia che adesso possono impostare con più tranquillità sarà il pizza boom scoprirsi in pressing per tentare di impensierire i campioni qui ha sbagliato il passaggio recupera una bella palla il numero 4 che va l'assist dentro c'è Stornelli che controlla la ribattuta del Checco la palla data di vasta controlla il piazzamento di Suep e prova a coprirla dall'assalto di Bogdanov che gli porta però via il pallone mettendolo in fallo laterale aveva tentato Cioccari prima il passaggio dentro mentre c'è Rossi che si libera e Molonzi supera sul sinistro di Daniele Rossi dal nulla se era girato aveva tentato di scagliare una conclusione all'incrocio è volato Molon attenzione all'angolo Molon ancora incredibile Molon le sue mani sul vantaggio del Checco che adesso può andare in contropiede dall'altra parte con Caffiero palla che esce di un nulla Giovanni si è rialzato il ritmo è ricominciato il superclassico sono entrati in ritmo anche nella ripresa che partita Alessandro respira un attimo perché non ti stanno dando veramente un attimo di tregua prima due occasionissime per il pareggio del pizza boom poi ripartenza fulminante del Checco che non ha sfruttato però l'occasione c'è Tiberi qui che riesce a tenere in campo il pallone se ne va bene in dribbling fino in fondo Tiberi l'assist dentro ci sono pochi compagni per raccogliere la sfera anche ecco attenzione questo passaggio stranamente sbagliato da Cichella va in pressione alta di vasta c'è il lancio lungo a cercare Bogdanov che con un po' di mestiere forse troppo prova a liberarsi di Latini un altro che di mestiere ne ha certamente molto Cioccari con i suoi dribbling disorienta Nardecchia poi Latini riesce a dare a Tiberi che di tacco in bello stile serve Stornelli Stornelli si gira dalla media distanza cerca Rossi Rossi la porta ce l'ha sul sinistro Rossi Rossi guarda come sono piazzati i compagni dentro si interroga sul da farsi poi si ferma di fronte a De Santis serve bene attenzione al passaggio dentro e ha tentato arrivando da dietro proprio il numero scusate il numero 6 Andrea Sacchi la sua conclusione è andata alta si è alzato di nuovo il ritmo di una partita che davvero come dicevi tu Giovanni non concede respiro il Checco in vantaggio per 2-1 quando siamo giunti al quinto minuto della ripresa Cafiero uno dei marcatori di questa gara va a lancio lungo a cercare il numero 2 vi diciamo si tratta di Paolo Buzzi altro giocatore molto importante del Checco dello Scapicollo poco presente però in questa stagione c'è da dire del roster del Checco davvero moltissimi giocatori a comporlo si è veramente una rosa molto lunga e molto spesso mancano i migliori ma le seconde linee comunque non fanno rimpiangere quelli che sono i giocatori più rappresentativi della squadra in maglia arancione mi dispiace Giovanni ma è difficile anche darti la linea perché sembrano minacciare conclusioni i giocatori da qualsiasi punto del campo e succede talvolta che le conclusioni arrivino in porta mentre noi ci troviamo a metà strada attenzione qui non si trova a metà strada di vasta che la dà dentro è respinta la palla da De Santis che si impegna ma deve lasciarla all'intervento di Cioccari che la protegge De Santis è bravo a rimanere in posizione a toccargli la palla col piede sinistro in fallo laterale Cioccari la sua rimessa laterale c'è Rossi che si propone intanto allacciando lo scarpino Tiberi c'è l'azione dentro Rossi che la controlla le mani sulle sue spalle Rossi che rimane a terra e guarda l'arbitro con fare interlocutorio interrogativo prova a rialzarsi in qualche modo Rossi nel frattempo ripartita l'azione del Checco dello scapicollo ci si fa una risata forse l'intervento c'era nulla di fatto però Bogdanova la palla gli rimane lì attenzione è bravo però Latini di testa a servire Caterini tanta esperienza anche in difesa per il pizzabum tanta esperienza in difesa Bogdanova intanto è un po' fuori dal gioco occhio a Stornelli che dà la distanza prova Molon con un'altra grande parata di Molon resta 2-1 il Checco poi di vasta tira fuori ma Stornelli aveva preparato davvero una bella conclusione Molon a mani unite a dire di no dicevo che Bogdano forse è un po' probabilmente al di fuori del gioco ma sappiamo com'è comunque l'attaccante del Checco dello scapicollo tocca spesso pochi palloni durante la gara ma quei pochi che tocca li trasforma in gol come fu nella partita contro la Lazio calciotto tre palloni toccati da Bogdano due reti e un palo due reti che permisero al Checco dello scapicollo in quell'occasione di avere la meglio per 3-2 sulla Lazio calciotto alla prima partita con la guida di Stazio una Lazio che giocò bene nell'occasione ma si dovette inchinare proprio al centro avanti Grazimir Bogdano letale mortifero in zona gol prova a essere mortifero anche il Checco con questo possesso parla ad aggirare la pressione del Pizzabon che sale De Santis in verticale troppo lungo Caterini in facile uscita siamo assistendo a un grande match quando siamo giunti quasi all'ottavo minuto della ripresa è in vantaggio 2-1 il Checco ma l'equilibrio continua a regnare sovrano qui gira ancora palla vediamo che il Pizzabon comunque fa vedere vuole sempre affidarsi al possesso palla per venire avanti non riesce però a trovare sbilanciata la difesa del Checco c'è Stornelli che qui prova a girarsi viene trattenuto protegge bene la sfera Stornelli che attende l'inserimento di un compagno che arriva e poi Tiberi non riesce a deviarla mezzo metro dalla porta Molon nel frattempo rimane a terra dopo essere finito non sappiamo se contro un compagno di squadra nell'occasione Caffiero o contro il palo abbiamo sentito un colpo di Molon che si era gettato a corpo morto per evitare la realizzazione di Tiberi altra grande occasione per il numero 7 che ha colpito più o meno da quella posizione era l'altra porta nel primo tempo il gol del momentaneo pareggio siamo 2-1 per il Checco dello Scapicollo quando siamo giunti all'ottavo minuto e 30 secondi nel corso della ripresa il fallo laterale su Bogdanov toccato da dietro da Cioccheri si ferma Bogdanov e ottiene il calcio di punizione si danno la mano i due equilibrio che regna sovrano anche se il Checco è avanti Cichella chiama i propri compagni a venire incontro per serve De Santis cioè dall'altra parte compagno che dà di nuovo a De Santis lungo in verticale Giannini solito controllo molto elegante di Giannini chi attende per passarla a Tiberi gliela dà bene però Tiberi al lato corto dell'area di rigore Tiberi la protegge dall'assalto di De Santis se ne va sul fondo proprio sul fondo perché supera la linea che delimita appunto il fondo del campo rimessa già battuta dal Checco dello Scapicollo che ora con Bogdanov prova con un gran tacco Bogdanov poi non si conclude il gran triangolo Cichella non ci arriva allora Stornelli è uscito intanto Daniele Rossi per il pizzabume è andato a rifiatare in panchina al suo posto vediamo è entrato non ve lo sappiamo dire ve lo diciamo fra poco intanto abbiamo visto che i ritmi qualche errore in più oltre a Daniele Rossi probabilmente stanno rifiatando tutte e due le squadre si sono un po' abbassati i ritmi abbiamo detto qualche errore un po' un po' grossolano e probabilmente questo perché non si poteva mantenere il ritmo che si è mantenuto in questi primi 35 minuti di gioco soprattutto perché le due squadre mantenevano quei ritmi senza nemmeno mai allungarsi quindi grande la mole di corsa messa in campo ora ci prova Giannini col calcio di punizione deviato dalla barriera cioè Capoleghi la mette sempre con grande eleganza giù prova a andarsene Capoleghi attenzione velocissimo Capoleghi salta il secondo uomo la dà Cichella che di tacco gliela lascia ancora Capoleghi va a raccogliere l'invito del compagno cercato ancora per Cichella che però non si è avveduto del passaggio del compagno di squadra con la maglia numero 6 stesso lo stesso Capoleghi che va a deviare in fallo laterale la possibile ripartenza del pizzabum Capoleghi ce l'aveva detto Manolo Para tra primo e secondo tempo non si era visto molto ma quando sale fa paura mette sempre in difficoltà la retroguardia avversaria nel primo tempo un suo tiro aveva messo in difficoltà Molon aveva messo in difficoltà Caterini Molon che ora difende insieme al Checco l'iniziativa del pizzabum Giannini indietro per Latini a destra è entrato in azione divasta il passaggio in orizzontale un po' morbido arriva il destro Molon in due tempi bella la conclusione da parte di Sacchi improvviso il fendente è partito dal destro di Sacchi Molon molto attento Checco che può ripartire sempre con calma c'è da dire due squadre che non hanno praticamente mai lanciato lungo hanno sempre provato l'impostazione in bello stile palla a terra ora arriva il lancio lungo per Bogdanov elegante colpetto ma c'è Latini che ha letto tutto Latini che sale e poi coglie in controtempo Stornelli fallo laterale in zona difensiva per il Checco quando siamo giunti al minuto numero 11 il 30 secondi nel corso della ripresa tre quarti di superclassico giocati un 2-1 che sta premiando il Checco dello Scapicollo che comunque possiamo dire che meriti per ora questo punteggio ha fatto sicuramente qualcosa in più rispetto al pizza boom un 2-1 meritato ma partita ancora in bilico in bilico come il pallone che Giannini palleggia per tre volte prima di cedere al suo compagno di squadra di vasta che però non è bravo come lui nel controllo poi Stornelli viene atterrato ma è stato fischiato prima un calcio di punizione per un intervento irregolare su Capolei Giannini che si lamenta con la propria panchina prontamente rientra Rossi che ha rifiutato dalla breve pausa che si è concesso in questo inizio di secondo tempo C'è Caffiero qui stranamente sbaglia il controllo stranamente per un giocatore della sua cifra tecnica si rifà subito servendo cola recuperando Cichella C'è Cichella palla al piede che la dà per la corrente Stufa crediamo sia lui appena entrato tra l'altro no no scusate era Nardecchia Nardecchia l'uomo che ha segnato il due un attenzione al Checco che si perde in un berchier d'acqua in difesa e Stornelli può dare a Giannini Giannini ha l'apertura invece tentano uno due con Rossi sbagliato allora il Checco in contropiede con Caffiero Caffiero a spazio può anche caricare il tiro da desterno invece per Cola Cola col destro sul secondo pallo non accorre nessuno non c'è deviazione calcio di rinvio per il pizza boom forse addirittura rimessa laterale Alessandro no no c'è deviazione ma c'è rimessa laterale per il Checco dello scapicollo infatti ci sembrava essere la deviazione ma vedevamo l'arbitro indicare la porta invece era no no è calcio d'angolo per il Checco dello scapicollo no fallo laterale l'arbitro infatti indicava con la mano verso destra Cola che la lascia scorrere per Cichella in orizzontale per Caffiero sale la pressione da parte di Stornelli che rimane lì poi Caffiero cade in seguito all'intervento di Cioccari che prova a discolparsi l'intervento però Giovanni Parevanetto sì intervento duro sicuramente non volontario senza cattiveria andava però sanzionato l'arbitro ha fatto bene a fischiare il calcio di punizione e vediamo se arriverà ancora una volta un pericolo che scaturirà da un tiro dalla distanza tiri dalla distanza che sono stati per adesso decisivi anche nella partita che abbiamo seguito precedentemente a questa sempre in diretta live streaming sempre su news.funnel.it la Roma ha battuto 3-1 la Lazio ora il checo è avanti 2-1 sul pizza boom tra Stevere con Cichella pronto alla battuta va invece Caffiero il destro di Caffiero addirittura d'interno non si abbassa abbastanza Caterini intuiva la traiettoria rimaneva fermo rimettendo ora per Giannini la palla giocata a destra ha provato l'azione in bello stile il pizza boom Rossi non è pervenuto però al controllo Rossi stesso che poi mette palla in fallo laterale superata la metà del secondo tempo 13 minuti e 20 secondi sul cronometro del direttore di gara quando il checo dello scapicollo è sempre in vantaggio per 2-1 sul pizza boom recupera anche qui palla bene con Nardecchia l'uomo del 2-1 l'aveva fatto col destro qui Giovanni ha provato a crossare di sinistro sballando la traiettoria si un cross che non è è andato a segno nel frattempo vediamo probabilmente il pizza boom è leggermente stanco sta provando a rifiatare adesso la squadra giallorossa Stornelli deviato l'avevamo detto non possiamo prenderci un attimo di pausa Stornelli col sinistro a incrociare c'è stata una deviazione ma tanto vale il 2-2 del pizza boom tra Stevere con Stornelli dopo Tiberi per due volte si rialzano in piedi giallorossi non rifiatano mai non rifiatano mai non c'è nulla da fare non c'è un attimo di pausa qui il sinistro che è stato veramente terrificante non ha lasciato spazio a Molon che non è arrivato con la mano sinistra è andato a prendere proprio l'angolino basso attenzione Giovanni perché Stornelli l'ha ripresa ha provato a darla in mezzo Rossi l'ha deviata correndo praticamente sopra il pallone il pareggio del pizza boom tra Stevere nel momento in cui il Checco sembrava amministrare non possiamo prenderci un attimo di pausa si tira da tutte le posizioni si gioca una partita a ritmi altissimi il super classico lo vogliono vincere tutte e due l'equilibrio è altissimo così come non era stato però nella scorsa stagione l'avevamo detto la distanza tra pizza boom e Checco si è probabilmente accorciata quest'anno lo sta dicendo il 2 a 2 che al minuto 15 della ripresa regna appunto il pareggio sul super classico Checco dello scapicollo pizza boom qui Rossi di tacco per Giannini che si inserisce bravo però De Santis col suo fisico e con la sua incredibile corsa a coprire c'è Stornelli che si impegna in una gran scivolata ancora Stornelli anche su Cichella che forse fa fallo regola del vantaggio però con Cioccari che scucchiaia per Rossi il solito gran controllo di Rossi l'arida Cioccari che viene a prendersi palla dietro c'è Giannini libero Cioccari la protegge la dà Rossi dentro non ha visto vicino a sé il compagno di squadra che poteva tirare attenzione a Giannini che l'ha ripresa il Checco non riesce a uscire adesso in difficoltà ai campioni d'Italia Giannini palla giocata adesso per Cioccari dalla distanza può respirare adesso il Checco il pizza boom ha messo paura ai campioni d'Italia qui si adesso sale alta la pressione del pizza boom grandissima pressione ai limiti proprio dell'area di rigore del Checco dello scapicollo ripartono adesso gli uomini magli arancione ai limiti della resistenza umana è la pressione che sta portando su tutto il campo Enrico Stornelli un vero fattore sia in chiave difensiva dove va in pressione a recuperare un sacco di palloni sia in riproposizione dell'azione su il sinistro del 2-2 qua Giannini prova col destro contrato però da De Santis la palla gli torna c'è Rossi dalla media distanza surplus di Rossi che dà poi sulla sua sinistra Stornelli Cioccari da là può anche tentare Cioccari è deviato il tiro è calcio d'angolo per il pizza boom tra Stevere quando arriva però finalmente possiamo dire Giovanni un time out che accorcia un po' il ritmo della gara non ci siamo fermati un secondo è un 2-2 è una delle partite più belle dell'anno Sì adesso abbiamo visto Molon che cercava di scuotere i suoi dopo il pareggio dopo il 2-2 della squadra giallorossa il checco dello scapicollo è sembrato accusare un pochino il colpo probabilmente non si aspettava una reazione così degli uomini appunto in maglia giallorossa degli uomini del pizza boom comunque una grande partita dicevi che non ci aspettavamo dei ritmi così elevati probabilmente una delle gare più spettacolari dell'anno lo possiamo dire forte lo possiamo dire forte a tanta qualità è stata abbinata con tanta corsa gli uomini nominati da Manolo Para tra primo e secondo tempo sono andati in gol ha segnato Nardecchia il gol del momentano vantaggio per il checco ha pareggiato Stornelli con il 2-2 nella prima frazione era andato in vantaggio il checco dello scapicollo con Caffiero era stato Tiberi in azione di calcio d'angolo a trovare il momentaneo 1-1 equilibrio assoluto lo possiamo dire pareggio giusto di una bellissima partita giunta ora al 17esimo minuto crediamo ci sarà comunque qualcosa da recuperare questo è il primo time out in una ripresa che non ha vissuto praticamente pause con il pizza boom che potrà ripartire quando l'arbitro comanderà la ripresa del gioco da un calcio d'angolo che va a battere Stornelli l'uomo del 2-2 Stornelli che andrà probabilmente col destro a rientrare gran mucchio in area di rigore Stornelli fischia l'arbitro il calcio d'angolo sul secondo palo la spizzata di Nardecchia a concedere fallo laterale laddove non c'erano più giocatori del pizza boom rimessa dentro ancora Nardecchia bravo addirittura in acrobazia la palla che rimane lì Rossi e poi alto il tiro di Stornelli avevano respinto anche questo tiro era stato ancora Molon da un metro a negare la gioia del gol a Daniele Rossi attenzione che rischia qui il checco con l'impostazione bassa va a lancio lungo poi cola la classe dei campioni d'Italia però con cola la grande tranquillità sulla sinistra di Caffiero che se ne va a lato corto e porta a casa stavolta lui solo rimessa laterale anche in questo caso comanda il direttore di gara lo stesso Caffiero la fa a battere siamo già dall'altra parte Caffiero dentro c'è l'assist indietro di testa di Nardecchia solita calma olimpica di Giannini che stoppa di petto e da Rossi che protegge e poi in becca o almeno ci prova Stornelli col destro non è il suo piede ma azioni da una parte e dall'altra che si susseguono ci ha riprovato qui Rossi senza guardare il compagno a metterlo davanti alla porta era troppo difficile questa volta troppo lontano il compagno di squadra e allora è potuto ripartire Molon su news.faner.it potrete seguire sul TG Faner News in onda dal mercoledì alla domenica alle ore 19 gli highlights di questa partita e di quella che l'ha preceduta il derby vinto per 3-1 dalla Roma contro la Lazio Calciotto così come tutte le altre partite tutti gli altri protagonisti della serie A della Lega Calciotto qui Caffiero subisce fallo si arrabbia da morire si arrabbia da morire nel frattempo Andrea Sacchi diceva di essere entrato sul pallone nel possiamo dire che nemmeno Caffiero aveva chiesto questo calcio di punizione l'arbitro ha visto però l'intervento irregolare arbitraggio possiamo dire fino adesso esemplare da parte del direttore di gara dire che sta tenendo in pugno la contesa qui in realtà Caffiero tu dici non aveva richiesto la punizione ma in realtà si era fermato guardando l'arbitro probabilmente voleva il calcio di punizione senza poi però richiederlo così apertamente il direttore di gara ha fischiato e adesso vedremo gli sviluppi di questo calcio di punizione si era fermato l'aveva richiesto probabilmente con lo sguardo questo calcio di punizione Caffiero calcio di punizione che va a battere Cichella direttore di gara ben quotivato anche però dalle due squadre in campo davvero molta correttezza quasi quanta la classe dimostrata dai protagonisti oggi su questo terreno di gioco quello della quindicesima giornata la stella azzurra dove Luca Cichella adesso si appresta a battere questo calcio di punizione sempre tre in barriera per il pizzabum parte Cichella è basso e Caterini ancora lui ancora ha due mani sul palo alla sua destra a dire di no a Cichella una sfida aperta tra i due Caterini sta prendendo tutti i tiri del numero 10 ma che portieri stiamo vedendo oggi che risposta di Caterini prima Molon era stato bravo su un tiro ravvicinato di Rossi poi era arrivata la battuta di Stornelli che era andata sopra la traversa che portieri però Caterini e Molon protagonisti assoluti come i loro compagni di squadra di una delle partite più belle vissute in questo anno 2013-2014 di Lega Serie A Stornelli che protegge la sfera al lato corto si va a guadagnare la rimessa no il calcio d'angolo lo stesso Stornelli lo può battere veloce non c'è nessun compagno però la palla era a uscire c'è allora Nardecchia che la controlla e può andare in velocità cercando 1-2 con Italiano c'è la gran chiusura di Capitan Latini che però va a riconsegnare palla a Nardecchia ciò Cari Latini no anzi c'è Giannini adesso in possesso di palla fallo laterale davvero pochi però gli errori in palleggio da parte di due squadre che fanno del possesso di palla il loro fiore all'occhiello come anche il dribbling il fiore all'occhiello di Giannini che ne salta 3 Giannini scatenato la dà sulla sua destra Stornelli che finta il tiro Stornelli rientra sul sinistro ancora Giannini traccheggia un po' sul da farsi ancora Giannini va giù calcio di punizione per il che calcio di punizione per il pizza punta stevere protesta i vehementi del checco allontana la palla Capolei che viene ammonito abbiamo visto una serie di dribbling di Giannini allucinante strepitosa la sua azione ha preso palla ha fatto tutto da solo all'altezza della linea di centrocampo si è portato in avanti anche con un po' di fortuna devo dire ha vinto un paio di rimpalli poi aveva trovato il Varchi in mezzo a tre uomini in mezzo a tre maglie arancioni era riuscito a liberarsi poteva andare al tiro un tiro che sarebbe stato probabilmente recisivo che non avrebbe lasciato scampo a Molon calcio di punizione sacrosanto questo è grandissima adesso occasione per il pizza boom grande occasione per il pizza boom tra stevere ma grandissimo davvero il dribbling dopo due surplus di classe pura di Riccardo Giannini che forse anche con un po' di esperienza lo crediamo dalle vehementi proteste del checco dello scapicollo è andato a prendersi questo calcio di punizione da posizione centralissima praticamente meno di un metro dal limite dell'area di rigore vediamo i tre frombolieri principali dai calci piazzati di vasta Giannini e Rossi vediamo chi andrà alla battuta tre in barriera per Molon che scruta per vedere quale sarà il giocatore che batterà parte Rossi il sinistro è sulla linea De Santis col volto chiedono il calcio di rigore quelli del pizza boom è stato un salvataggio incredibile quello di De Santis Rossi l'aveva messo all'angolino forse con un braccio forse con la faccia l'ha tolta dalla linea di porta si è salvato il checco dello scapicollo Caterini ripropone c'è Capolei al rilancio lunghissimo c'è Latini che è con calma di testa da destra non c'è un attimo di pausa il pizza boom sbaglia il primo passaggio la sfera arriva nella zona italiana Rossi che l'appoggia la grande a Giannini il dribbling di Giannini che cade solo per un momento la lascia lì a Italiano sbaglia il dribbling italiano un po' in ombra nella ripresa prova a andare adesso Sacchi ha arrabbiato il pizza boom ha visto il fallo di mano l'arbitro ha optato per il tocco almeno involontario o col volto Giannini servito troppo lungo palla fuori se l'è vista brutta il checco Giovanni si è detto bene in occasione appunto del calcio di punizione probabilmente il pizza boom richiedeva un fallo di mano del difensore posizionato sul palo a noi è sembrato però in realtà toccare con il volto e non con la mano era velocissima l'azione io non ne sono così sicuro ma se l'hai visto tu Giovanni mi fido ciecamente attenzione al lancio Italiano Italiano è solo c'è il grande recupero però di Sacchi che sta facendo una partita difensivamente perfetta qua se ne va addirittura in dribbling chiede il fallo non glielo danno c'è Italiano Italiano il sinistro la deviazione di Latini Sacchi un eccesso di confidenza nei propri comunque buoni mezzi tecnici concede il calcio d'angolo al checco Nardecchia palla dentro respinta da Latini Latini e Sacchi dicevamo grande prestazione difensiva da loro hanno disinnescato moltissimi attacchi dei campioni d'Italia scusate Cichella adesso in possesso di palla di fronte a se Stornelli deve retrocedere per la continua pressione che il numero 8 porta in scivolata la tocca alla fine Cichella e altro fallo laterale guadagnato da un immenso Enrico Stornelli Giovanni sì stiamo vedendo veramente tanti tanti giocatori che stanno disputando una gara perfetta direi senza sbavature Rossi Rossi dalla media distanza vede a destra il compagno lo serve c'è il cross sul secondo palo incontro tempo colto Sacchi crediamo che si era spinto in avanti trame del pizza boom che tagliano a fette il campo entrano nella difesa del Checco poche volte così in difficoltà quest'anno calcio di punizione intanto guadagnato dal numero 8 Caffiero l'uomo che aveva portato in vantaggio il Checco una partita equilibratissima un 2-2 stupendo quando siamo giunti praticamente a fine match non ce ne siamo nemmeno accorti manca pochissimo alla fine non abbiamo nemmeno visto l'assegnazione del recupero da parte dell'arbitro da Cichella cerca di intimare a Tenete Rossi di mantenere la distanza Cichella dalla può andare anche alla battuta un solo uomo in barriera parte Cichella la palla che spassa e forse tocca il palo Cichella o comunque la sfera ha sibilato a un millimetro dal palo difeso da Caterini se non ha toccato il palo lo ha sfiorato quindi diciamo che la differenza praticamente non c'è occasionissima dalla distanza da lontanissimo sacchi di prima in avanti gli chiamavano la giocata rapida lo fa è però sbagliata Caterini poi in uscita può sbrogliare la matassa per il pizza boom e riproporre un'altra azione su Tenete Rossi ottimo il controllo col petto sombrero a De Santis che lo trattiene prolungatamente Rossi però non si ferma la dà a sinistra sacchi il suo controllo non è preciso poi il rinvio senza guardare quando non c'è più tempo finisce due a due tra pizza boom tra Stevere e Checco dello Scapicollo lo splendido super classico della quindicesima giornata della Serie A della Lega Calciotto proseguono le polemiche per un paio di episodi dubbi ma Giovanni abbiamo assistito forse alla partita più bella dell'anno partita più bella dell'anno che non poteva finire con la vittoria di una delle due squadre si sono praticamente equivalse le due compagini e direi che il 2 a 2 è sicuramente il risultato giusto grande Checco dello Scapicollo in velocità ottimo pizza boom con il possesso di palla hanno gestito bene il possesso della sfera gli uomini in maglia giallorossa abbiamo visto un grande Daniele Rossi che come sempre ha portato avanti i palloni e ha messo due o tre volte i compagni davanti alla porta avversaria ma il Checco dello Scapicollo non è stato assolutamente da meno anche se con questo risultato non è più da solo in vetta la classifica infatti Giovanni mi hai preceduto la venere in bichini al termine della quindicesima giornata spodesta dalla testa della serie A della Lega Calciotto il Checco dello Scapicollo che con questo pareggio rimane quindi secondo praticamente agli stessi punti dell'Eurobet Palermo abbiamo visto grandissime parate gol d'autore a noi non resta che ringraziarvi per la gentile attenzione nella diretta live streaming concessa da news.faner.it rinviamo l'appuntamento al TG in uscita tutti i giorni dal mercoledì alla domenica su news.faner.it il Faner News con calcio 5 e calcio 8 all'interno da Alessandro Sicozzi e Giovanni Fabri è tutto appuntamento alla prossima settimana